Per questo tutorial utilizzo il filato turco del produttore Ice Yarns Baby Wool e 40% lana, 60% acrilico. Il filato è molto morbido e voluminoso, vi lascio nella descrizione di sotto, il link dovete trovare tutte le caratteristiche di questo filato. Il produttore ci consiglia di utilizzare l'uncinetto da 4 a 4.5 mm, ma visto che io sto per realizzare una copertina e voglio che mi venga soffice, leggera e voluminosa, prendo l'uncinetto 6 mm. Prima di incominciare a fare la copertina, vi consiglio di realizzare un piccolo campioncino. Perché? Per questo ci sono tre ragioni. Primo, possiamo provare il punto sul campione e quando iniziamo a fare la copertina, ci viene bella dalla prima maglia. Secondo, possiamo vedere come sta il punto con il vostro filato, perché non solo il tipo di filato, ma anche solo il colore può cambiare l'aspetto del punto. E terzo, possiamo prendere le misure e capire quante catenelle ci servono per avere una certa larghezza, quella che ci interessa. Facciamo il campione. Per questo punto abbiamo bisogno del numero di catenelle divisibile per 3. Io ne avevo 12. Metto il filo sul dito, prendo l'uncinetto, lo infilo da questa parte, lo giro, fisso il filo con le dita, prendo il filo e lo faccio passare. Questo è il nostro inizio del lavoro, il nostro capietto. Dopodiché, filo sull'uncinetto, passo dalla catenella, filo sull'uncinetto, passo dalla catenella, filo sull'uncinetto, passo dalla catenella. E così lo faccio finché non arrivo alle mie 12 catenelle. Adesso devo fare ancora 2 catenelle, poi vado a fare una maglia alta nella terza catenella dall'uncinetto. Dunque, prendo il filo, adesso vediamo dove sta la terza catenella. Prima, seconda, terza. Quella sull'uncinetto non contiamo. Dunque, filo sull'uncinetto, infilo l'uncinetto nella terza catenella. Prendo il filo, lo faccio passare attraverso la catenella. Riprendo il filo, lo faccio passare attraverso due punti. Riprendo il filo di nuovo e lo faccio passare di nuovo attraverso gli ultimi due punti. Questa è la maglia alta. Adesso dobbiamo saltare due maglie. Questa non si conta. Qua ci sta già la maglia alta. Una, due, saltiamo e andiamo a infilare l'uncinetto nella terza catenella. E qui facciamo una maglia bassa. Filo sull'uncinetto. Facciamo passare tramite la catenella. Riprendiamo il filo. E facciamo passare tramite due punti. Questa è la maglia bassa. Adesso vado a fare la maglia alta nella stessa catenella. Filo sull'uncinetto. Infilo l'uncinetto dentro la stessa catenella. Qua. Riprendo il filo. Faccio passare dalla catenella. Riprendo il filo. Faccio passare tramite, attraverso due punti. Riprendo il filo. Faccio passare attraverso due punti. Questa è una maglia alta. E una maglia bassa. Lavorate nello stesso punto. Nella stessa catenella. Adesso di nuovo. Salto due catenelle. E nella terza catenella. Vado a fare una maglia bassa. E una maglia alta. Infilo l'uncinetto nella terza catenella. Prendo il filo. Passo. Prendo. Passo attraverso due punti. Questa è una maglia bassa. Filo sull'uncinetto. E sto facendo la maglia alta. Passo tramite la catenella. Filo sull'uncinetto. Passo attraverso due punti. Riprendo il filo. E passo attraverso due punti. E questa è un'altra maglia bassa. E una maglia alta. Fatti nella stessa catenella. Di nuovo. Salto due catenelle. E nella terza. Infilo l'uncinetto. E vado a fare una maglia bassa. Sì. E adesso nella stessa catenella. Vado a fare una maglia alta. In pratica questo è il nostro punto. Andiamo alla fine. Saltiamo due catenelle. E qui arriviamo al nostro capietto. Infiliamo l'uncinetto dentro il capietto. Così evitiamo ad avere i nodi nella copertina. E facciamo una maglia bassa. Non facciamo qua una maglia alta. Perché siamo arrivati alla fine del primo giro. Alla fine del giro facciamo solo una maglia bassa. Adesso giriamo il nostro lavoro. E partiamo al giro numero due. Facciamo due catenelle. Per iniziare il secondo giro. Dopo vado a fare una maglia alta. La maglia alta la vado a fare nella prima maglia. Guardate. Questa maglia è l'ultima maglia bassa del primo giro. E dobbiamo inserire l'uncinetto dentro questa maglia. Ma è molto importante sotto entrambe le parti della maglia. E andiamo a fare una maglia alta. Adesso dobbiamo saltare una maglia. Guardate. La maglia che dobbiamo saltare è larga. Perché? Perché è la maglia della nostra maglia alta del primo giro. La saltiamo. E poi inseriamo l'uncinetto nella maglia che vediamo che è più stretta. Perché è la maglia della maglia bassa del primo giro. Giusto per voi, per orientarvi. Dunque, salto la maglia successiva ed inserisco l'uncinetto nella seconda maglia. Quella più piccola, più bassa e più stretta. Prendendo due parti della maglia. E lavoro la maglia bassa. Ecco la maglia bassa. Dopodiché, devo lavorare una maglia alta nella stessa maglia dove ho già lavorato la maglia bassa. In pratica, questo è il nostro punto. Lavorare una maglia bassa e una maglia alta. Puoi saltare una maglia e lavorare una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo sempre la maglia che è più lunga, che è della maglia alta del giro precedente. Dunque, salto una maglia, infilo l'uncinetto nella maglia successiva e lavoro una maglia bassa e una maglia alta nella stessa maglia. Poi, di nuovo, salto una maglia, infilo l'uncinetto nella maglia successiva e poi, di nuovo, una maglia bassa e una maglia alta lavorate nella stessa maglia. Siamo arrivati alla fine del giro. E qua troviamo una maglia alta che dobbiamo saltare, la sua maglia, sì, e poi la catenella. Infiliamo l'uncinetto tra la maglia alta del primo giro e la catenella. E lavoriamo una maglia bassa, perché siamo alla fine del giro e il giro lo finiamo sempre con la maglia bassa. Terzo giro Facciamo due catenelle e andiamo a inserire l'uncinetto nella prima maglia. La prima maglia è della maglia bassa del giro precedente. Attenzione che, quando inseriamo l'uncinetto, dobbiamo inserirlo sotto le due parti della maglia. Prendiamo il filo e facciamo una maglia alta. Adesso dobbiamo saltare la maglia successiva e, nella seconda maglia, lavorare una maglia bassa e una maglia alta, tutti e due lavorare nella stessa maglia. Di nuovo, saltiamo una maglia e, nella maglia seconda, facciamo una maglia bassa e una maglia alta. E questo è il nostro punto, questo è il giro che ripetiamo tutte le volte. Ed consiste in fare una maglia bassa e una maglia alta, poi saltare una maglia e, di nuovo, fare una maglia bassa e una maglia alta. Attenzione, le nostre maglie basse e alte le facciamo nella maglia piccola e bassa, perché quella grande e larga, dobbiamo saltare. Continuiamo a fare le nostre maglie basse e alte saltando una maglia fino alla fine del giro. E, alla fine del giro, inseriamo l'uncinetto tra la catenella e la maglia alta del giro precedente. E finiamo il nostro giro con solo una maglia bassa. Credo che qui ormai sia tutto chiaro, però per sicurezza faccio il quarto giro. Parto con due catenelle. Parto con due catenelle. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia e lavoro una maglia alta. Salto una maglia, inserisco l'uncinetto nella seconda maglia e lavoro una maglia bassa e una maglia alta. Poi di nuovo salto una maglia, quella grande e larga, inserisco l'uncinetto nella seconda maglia, quella piccola e stretta, e lavoro una maglia bassa e una maglia alta, tutte e due nella stessa maglia. Salto di nuovo una maglia. Nella seconda inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa e una maglia alta. Arrivando alla fine del giro, inserisco l'uncinetto tra la catena e la maglia alta e finisco il giro con una maglia bassa. Il nostro campione è pronto. Adesso abbiamo imparato per bene come si fa questo punto. Quando iniziamo a fare la copertina ci viene bene da subito. Possiamo vedere anche come è il punto con questo filato. Il filato azzurro è semi acrilico, semi lana. Invece la copertina gialla l'ho fatta con un altro tipo di filato. È 50% acrilico e 50% cotone. Vedete che sono un po' diversi, però belle tutte e due. Adesso possiamo prendere le misure. Dunque, il nostro campione è largo 6 cm. Questa cifra ci serve per fare il calcolo. Adesso facciamo i nostri conteggi. Dunque, per il nostro campione abbiamo avviato 12 catenelle. Abbiamo misurato il nostro campione e largo 6 cm. Vuol dire che se dividiamo 12 catenelle per 6 cm abbiamo 2 catenelle in 1 cm. E se vogliamo fare la copertina larga per esempio 70 cm, cosa facciamo? Prendiamo 70 cm, moltiplichiamo per 2 catenelle che stanno in 1 cm e abbiamo 140 catenelle. Però dobbiamo sempre ricordarci che per realizzare questo punto le nostre catenelle devono essere divisibili 3. Vuol dire che dobbiamo aggiungere una catenella. 141. Perché 140 non si divide per 3. 141 sì. Dunque 141 catenelle. Andiamo a fare la nostra catenella. Vado più veloce stavolta perché abbiamo già fatto sia la catenella che il punto. Voi fate il numero di catenelle che vi serve. Io ne avvio solo 30. Ho fatto la mia catenella. Adesso facciamo 2 catenelle in più e inseriamo il nostro uncinetto nella terza catenella. quella sull'uncinetto non va contata. Il filo sull'uncinetto. Infiliamo l'uncinetto nella terza catenella e lavoriamo una maglia alta. Dopodiché saltiamo 2 catenelle. Nella terza catenella andiamo a inserire l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. poi lavoriamo una maglia alta sempre nella stessa catenella. Saltiamo 2 catenelle. inseriamo l'uncinetto nella terza catenella. inseriamo l'uncinetto nella terza catenella. Lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta sempre nella stessa catenella. Di nuovo saltiamo 2 catenelle. Infiliamo l'uncinetto nella terza. Lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. così andiamo avanti fino alla fine della catenella e ci troviamo alla fine. Sono alla fine. Salto 2 catenelle e trovo il capietto. Infilo l'uncinetto nel capietto e vado a lavorare una maglia bassa. Giro il mio lavoro e parto con il secondo giro. 2 catenelle. Il filo sull'uncinetto. Io vado a inserire l'uncinetto nella prima maglia. E lavoro una maglia alta. Adesso salto una maglia larga e alta della maglia alta del primo giro. E vado a inserire l'uncinetto nella maglia piccola. Vado a lavorare una maglia bassa e una maglia alta nella stessa maglia. Poi salto una maglia. Nella maglia successiva inserisco l'uncinetto. E vado a lavorare una maglia bassa e una maglia alta. Sempre nella stessa maglia. di nuovo salto una maglia. Infilo l'uncinetto nella maglia successiva. E lavoro una maglia bassa e una maglia alta. Vado avanti così fino alla fine del giro. Sono alla fine. Salto una maglia. e vado a infilare l'uncinetto tra la catenella e la maglia alta del giro precedente. E vado a lavorare una maglia bassa. Adesso inizio insieme a voi il terzo giro con due catenelle. Una maglia alta nella prima maglia. Salto una maglia. Vado a lavorare una maglia bassa e una maglia alta nella maglia successiva. Adesso possiamo continuare il nostro lavoro. Fate la lunghezza quella che voi desiderate. e poi ci troviamo per fare il bordo. Ho fatto la mia piccola copertina. Guardate, i bordi non tirano. Sono molto elastici, lenti. Suggerisco di finire il nostro lavoro dallo stesso lato dal quale abbiamo iniziato. Guardate, ho qua il filo dell'inizio del lavoro e finisco il mio lavoro sempre dalla stessa parte. In questo modo quando facciamo il bordo i lati della mia copertina e della vostra saranno posizionati nello stesso modo e ci verrà più facile a fare il bordo insieme. Dunque, ho finito il mio lavoro con una maglia bassa. Anche voi. Adesso tiro il filo un centimetro, poco più di un centimetro mi va bene per il mio lavoro, per il mio filato. Dopo prendo il filo sull'uncinetto e vado a inserire l'uncinetto nello spazio tra la catenella del giro precedente e la maglia alta. Riprendo il filo e tiro. Adesso riprendo il filo, inserisco l'uncinetto sempre nello stesso spazio, prendo il filo e tiro. Ho uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette punti sull'uncinetto. Prendo il filo e lo faccio passare attraverso tutti questi sette punti. E poi lo fisso così. Abbiamo fatto una nocciolina. Adesso, nello stesso spazio, sempre tra la catenella e la maglia alta guardate quante ce ne abbiamo. Sono tutte uguali. Nello stesso spazio, inserisco l'uncinetto prendo il filo e faccio la maglia bassissima. tiro il filo, filo sull'uncinetto per la prima volta inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo faccio passare filo sull'uncinetto per la seconda volta inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo faccio passare filo sull'uncinetto per la terza volta inserisco l'uncinetto, prendo il filo e lo faccio passare e adesso faccio passare il filo attraverso tutti i sette punti e poi fisso la mia nocciolina. Abbiamo fatto due noccioline. Vado a inserire l'uncinetto nello spazio successivo e lavoro una maglia bassissima. Così vado a fare tutte le mie noccioline tirando fuori il filo. Filo sull'uncinetto per tre volte, adesso una volta, seconda volta e terza volta. Poi faccio passare il filo attraverso tutti i sette punti, poi fisso la mia nocciolina e poi vado a inserire l'uncinetto nello spazio successivo tra la catenella e la maglia alta. Faccio la maglia bassissima, tiro il filo e così via fino alla fine del bordo. Ma non arriviamo proprio all'angolo all'angolo, ci fermiamo un pochettino prima. Sto arrivando alla fine del bordo. Devo inserire l'uncinetto nell'ultimo spazio per fare la nocciolina. Intanto faccio la maglia bassissima, tiro il filo e adesso, prima di fare la nocciolina, voglio vedere dove inserisco l'uncinetto per fissarla con la maglia bassissima. Guardate, se tiro il filo dell'inizio del lavoro, vedete, ci sono degli spazi. Io scelgo lo spazio nel mezzo per inserire l'uncinetto. Voi in teoria dovete avere gli stessi spazi se tirate il filo. Dunque, adesso faccio la nocciolina e la fisso con la maglia bassissima inserendo l'uncinetto nello spazio nel mezzo questo quà. Allora, filo sull'uncinetto uno. Inserisco l'uncinetto, prendo il filo, tiro. Filo sull'uncinetto due. Inserisco l'uncinetto, prendo il filo, tiro. Filo sull'uncinetto 3. Inserisco l'uncinetto, prendo il filo tiro, faccio passare il filo attraverso i sette punti, fisso la nocciolina e vado a inserire l'uncinetto in questo spazio qua, nel mezzo, proprio nell'angolo, nell'angolo e faccio la maglia bassissima. Tiro il filo, prendo il filo e faccio la nocciolina, ancora prendo il filo e per la terza volta prendo il filo, comunque la nocciolina avete già capito come fare. La fisso e adesso devo vedere dove inserire l'uncinetto su questo lato qua. Proviamo a vedere che cosa abbiamo. Guardate, io ho questi spazi qua, anche voi dovete averli, questi spazi vedete, e ho deciso di inserire l'uncinetto in questi spazi qua. Dunque, inserisco l'uncinetto nel primo spazio, più vicino, e faccio la maglia bassissima. Ecco la nostra nocciolina ed ecco il nostro angolo. Tiro, faccio un'altra nocciolina. La fisso. Vado a inserire l'uncinetto nello spazio successivo, lavoro una maglia bassissima. Tiro il filo, lavoro un'altra nocciolina. La fisso. Trovo lo spazio successivo, qui. Lavoro una maglia bassissima. Adesso vediamo che cosa abbiamo fatto. Guardate l'angolo. Perfetto. Adesso andiamo a fare le noccioline fino alla fine del bordo. Ho giunto la fine. Ho fatto la nocciolina nell'ultimo spazio. Adesso, guardate, io qua, nell'angolo, ho proprio lo spazio direttamente nell'angolo. E mi va bene per inserire l'uncinetto dentro. Faccio la maglia bassissima. E poi vediamo. Da questo lato ho tanti tanti spazi, uno dopo l'altro, che sono quasi uguali. Adesso, facciamo una nocciolina e poi vediamo dove inseriamo l'uncinetto. Sto fissando la mia nocciolina. Allora, vediamo cosa abbiamo. La nocciolina è qua. Non dobbiamo tirarla per non avere il bordo tirato. Dobbiamo lasciarla morbida, lenta. A questo punto, vediamo dove possiamo inserire l'uncinetto per fissarla. Io direi... No. Così, troppo tirato. Allora, faccio così. Salto uno spazio e inserisco in quello successivo. Dunque, qua c'è la nocciolina, un altro spazio lo salto. In quello successivo vado a inserire l'uncinetto. Faccio la maglia bassissima. Vediamo. Sì? Perfetto. Andiamo avanti. Tiro il filo, faccio la nocciolina. La fisso. Adesso, lo spazio successivo lo salto. E vado a inserire l'uncinetto nello spazio dopo. Vediamo. Sì? Sta bene. Facciamo così. Andiamo avanti facendo le nostre noccioline e saltando uno spazio e inserendo l'uncinetto nello spazio successivo. la nocciolina. La fisso. Salto uno spazio e nello spazio successivo inserisco l'uncinetto e una maglia bassissima. Così. Così andiamo avanti alla fine del bordo. Sono arrivata alla fine del bordo. Vediamo cosa abbiamo. Abbiamo questo spazio che dobbiamo saltare lo spazio successivo e poi abbiamo questo spazio nell'angolo che ci va molto bene per inserire dentro l'uncinetto e fare una maglia bassa. tiriamo il filo facciamo la nostra nocciolina la fissiamo e adesso cosa facciamo? Vediamo che cosa abbiamo abbiamo il nostro ultimo giro della copertina abbiamo lavorato la maglia bassa la maglia alta la maglia bassa la maglia alta questo è stato il nostro ultimo giro vedete abbiamo le maglie larghe e le maglie strette le maglie larghe sono le maglie delle nostre maglie alte le maglie strette sono le maglie delle nostre maglie basse e si alternano io inserisco l'uncinetto nella maglia stretta faccio la maglia bassissima guardiamo sì perfetto faccio la nocciolina la fisso e adesso vado avanti saltando una maglia larga e facendo la mia nocciolina sulla maglia successiva cioè stretta maglia bassissima tiro il filo faccio la mia nocciolina la fisso salto la maglia larga e vado a inserire l'uncinetto nella maglia stretta e la maglia bassissima viene molto bene ci vediamo alla fine del bordo per finire le nostre noccioline sono arrivata alla fine adesso dobbiamo connettere la nostra ultima nocciolina con la nostra prima nocciolina guardate inserisco l'uncinetto in questo spazio qua vedete e faccio una maglia bassissima tiro un po' il filo il lavoro è fatto dobbiamo solo nascondere mettere dentro i fili se volete lo facciamo insieme abbiamo due fili da nascondere uno della fine del lavoro e l'altro dell'inizio del lavoro si nascondono nella stessa maniera io suggerisco di non nasconderli in mezzo alla copertina perché la copertina è doppia faccia io per nascondere il filo userei la nocciolina perché è grossa è spessa e ci fa comodo per nascondere il filo utilizzo l'uncinetto voi potete usare anche l'ago fa lo stesso dobbiamo vedere il nostro filo e inserire l'uncinetto nella stessa direzione da dove esce il filo prendo il filo lo faccio passare tiro un pochino in questo modo ho creato un nodino il filo adesso è ben ben fissato e non ci resta altro che metterlo dentro la nocciolina inserisco l'uncinetto prendo il filo e lo faccio passare attraverso la nocciolina questa operazione la devo fare un'altra volta inserendo l'uncinetto dall'altra direzione e facendo un passaggio diverso un pochino più in basso filo solo uncinetto faccio passare attraverso la nocciolina adesso si può tagliare via il filo ma prima di tagliare bisogna tirarlo un pochino così il filo va dentro la nocciolina e rimane là il nostro lavoro è fatto prego di scrivere nei commenti se il tutorial era abbastanza facile da capire se era abbastanza dettagliato oppure era troppo dettagliato iscrivete al mio canale mettete il pollice in su e ci vediamo prossimamente grazie di avermi guardata grazie